Siamo al Pantheon, simbolo per eccellenza della Romanità, perché Roma accetta tutte le religioni e perché accetta tutte le religioni? Perché le religioni vanno bene, infatti le religioni sono inferiori allo Stato, è lo Stato quello che conta di più, è lo Stato quello che plasma i cittadini lasciando ai cittadini credere a quello che vogliono, alle buaggini e alle bagianate che vogliono, che riguardano per di più un ipotetico al di italiano. Ecco perché noi siamo sempre stati ghibellini, essendo la ghibellinità una attestazione della supremacia dell'impero nei confronti del papato, papato peraltro, soprattutto quello romano, usurpatore nel vero senso della parola del retaggio imperiale, di cui copia un po' tutto, ha copiato un po' tutto e continua a copiare. Ma anche da questo punto di vista la verità non tarderà a venire e allora per certi nostri amici che hanno sostenuto il loro potere con la morte, con gli assassini, con la violenza e con i roghi ci sarà un momentino di, diciamo così, ripensamento.